Ciao a tutti, oggi argomento difficilissimissimissimissimissimo Perché? Perché molti pensano che la psicologia e la psicoanalisi sia distinta da quello che viene chiamato spiritualità In realtà non è così, o meglio, in realtà è stata così fino a quando gli psicologi comportamentisti che studiavano tutti i comportamenti dell'essere umano attraverso il metodo scientifico Non hanno scoperto la cosiddetta psicoanalisi Che tanto per la cronaca non è ancora stata scientificamente provata Perché? Dato che le psicoanalisi durano molti anni e hanno a che fare con della plasticità neuronale Quindi dipende un po' anche dal tipo di psicoanalisi che viene fatta Non ci sono studi scientifici che dimostrino che effettivamente la psicoanalisi abbia un'efficacia sulla qualità della vita della persona È vero anche che la psicoanalisi non è stato dimostrato il contrario E quindi significa che finché non viene dimostrato il contrario Si continua a parlare di psicoanalisi come uno dei metodi più adeguati per sviluppare consapevolezza profonda Che non ha a che fare solo con strategie cognitive Ma ha a che fare anche con consapevolezza che va oltre la consapevolezza dell'essere E quindi una sorta di trascendenza e di essenza vera e propria dell'essere Mi sono presa qualche nota perché ovviamente parlare di psicoanalisi e spiritualità non è una cosa semplice, semplice, semplice Ci sono, potrei muovere casini ovunque Potrei pensare che ci sono religiosi che pensano che la spiritualità e quindi gli psicologi che non devono essere religiosi eccetera eccetera Allora il dato di fatto è che chi è spirituale non per forza deve essere anche religioso Di fatto la psicoanalisi ha molto a che fare con la spiritualità Perché in entrambi i casi c'è una ricerca interiore di se stessi C'è una ricerca interiore della vera essenza di se stessi Quindi di quello che ci ha portato ad essere chi siamo Quindi le domande vere, importanti Chi siamo e cosa facciamo E in più hanno una sorta di C'è la ricerca di una crescita personale E quindi perché è una crescita personale evolutiva Perché non assimilare la psicologia La psicoanalisi in questo caso Alla spiritualità Che in realtà anche se sembrano due elementi paralleli O due elementi non integrabili In realtà sono estremamente integrati tra di loro E si è visto anche che chi riesce ad integrare la spiritualità Che può essere il pensiero creativo Così come l'effetto flow di cui poi parleremo Così come la mindfulness Così come il momento presente I sogni paralleli Sono tutti aspetti che hanno a che fare con la parapsicologia E che non vuol dire che siano parapsicologia E quindi extra eccetera Ma in realtà hanno a che fare semplicemente con dei comportamenti E degli studi della psicologia Che noi ancora non abbiamo studiato fino in fondo Perché non c'è stata la possibilità di applicare il metodo scientifico Che non sempre è applicabile Proprio perché le persone sono uniche E quindi non sempre il metodo scientifico è applicabile E tentare di integrare in un certo senso La spiritualità con la psicoanalisi Ora che cosa vuol dire spiritualità? Oltre al fatto di un modo di essere Di ricercare un certo equilibrio Di ricercare un equilibrio tra corpo, mente e spirito E la psicoanalisi che cosa fa? Anche quella mi sembra che cerchi un equilibrio Tra corpo, mente e spirito Se non altro perché corpo e mente Sono legati da un punto di vista scientifico Da dei tratti neuronali che collegano anche il cuore E quindi non vi sto a riparlare del microbiota Perché è una cosa che comincia a temerla letteralmente Ma sicuramente le malattie psicosomatiche Sono patologie che cercano una sorta di equilibrio E l'equilibrio che va oltre gli aspetti puramente psicologici Ha qualcosa di trascendentale E trascendentale vuol dire semplicemente che va oltre Che va oltre quello che noi vediamo della persona A livello comportamentale Qualcosa che ha a che fare con l'istinto Qualcosa che ha a che fare con l'intuito Qualcosa che ha a che fare con il flusso Con il momento presente Qualcosa che ha a che fare con la gioia di vivere Perché la spiritualità ha a che fare spesso Con il pensiero positivo Noi parliamo di spiritualità E spesso pensiamo all'Oriente Quindi alla filosofia orientale Perché no? Va bene La filosofia orientale è molto tollerante Probabilmente è molto più tollerante E qua non me ne vogliano Del cristiano cattolico Ed è molto più praticante del cristiano cattolico Di fatto sono state fatte degli studi Sulla spiritualità dei buddisti E se visto quanto questi monaci buddisti Riuscissero attraverso questi macchinari Che adesso ci sono Una volta non c'erano A sviluppare una sorta di felicità di vita E di equilibrio E di mindfulness Che vuol dire Tutto non è un caso Tutto non è un caso Alle coincidenze Alle sincronicità Di cui parlava Jung A questo effetto di inconscio collettivo Di cui parlava Jung E su cui sono stati fatti delle ricerche Molto importanti a livello mondiale Al fatto che ci siano delle vibrazioni Perché noi siamo campi di vibrazioni Noi siamo dei campi elettromagnetici Questo è stato studiato dalla fisica quantistica È stato studiato anche dalla fisica classica Quindi tutti questi elementi Che prima venivano convertiti Semplicemente in atteggiamenti religiosi Ora diventano spirituali Nella spiritualità Chi è spirituale? Chi è spirituale? Di solito ricerca Il proprio scopo nella vita Esattamente come si fa nella psicanalisi Ricerca la gioia di vivere I miei pazienti L'obiettivo che io ho con i miei pazienti È trovare l'equilibrio Trovare la loro gioia La loro felicità La sincronicità Le incoicidenze Quelle che dicevo prima di Jung La connessione con il tutto Il fatto di connettersi con qualcosa di superiore Che ha a che fare anche con la matematica Figuratevi Se qualcuno conosce la sequenza Aura Sa di cosa sta parlando Che riguarda la crescita personale ad esempio Che è la stessa cosa che ha a che fare con la psicoanalisi Con il vivere il presente Con il soprannaturale Con l'autenticità e l'espressione di sé Il lavoro energetico su di sé E anche la legge dell'attrazione Che in realtà su questa dovrei dire Un bel po' di roba Ma preferisco dirla Ci sarà una diretta Su Punto d'ascolto Focus 3.0 Il mistero della vita Domenica E quindi di questo ne parlerò In maniera più approfondita Domenica Ha a che fare con una sorta di gestione delle emozioni Gestione di quello che io sono Con il lasciarsi andare al flusso degli eventi Chi si lascia andare al flusso degli eventi Molto spesso Riesce a raggiungere Non solo un equilibrio con il tutto Una sorta di sincronizzazione energetica con il tutto E non sto parlando di cose New Age Sto parlando di scienza Perché se voi andate a ricercare Piani Se andate a ricercare Degli studi scientifici Che dimostrano questa sincronizzazione Basta andare sui libri di fisica O sui libri di fisica quantistica Per capire che O basta andare sui libri di musica Per sapere che Sincronizzare Quindi far risuonare Alcune note All'interno Di un Chiamiamolo così Di un bacino di risonanza Poi rende le persone più equilibrate Quindi quando si parla di psicoanalisi E si parla di spiritualità Il legame è molto più vicino di quello che si pensa E non sto parlando di religione Ripeto Sto parlando di spirito Sto parlando di qualcosa che ha a che fare Che va al di là Di quello che noi conosciamo Dell'effetto cognitivo Della psicologia L'effetto flow È un effetto che ha a che fare Con il talento Ha a che fare con Un momento di Coscienza alterata In cui io riesco a fare cose Di cui non mi rendo conto E le sto facendo Attraverso un istinto Attraverso un qualcosa Che mi sta come Conducendo E che probabilmente sono io Ma che in realtà Sono io Ad un livello superiore E qua ce ne sarebbe tanto da dire E magari nel prossimo articolo Nel prossimo video Vi parlerò di che cosa si parla Di che cosa si tratta Quando si parla Del punto Dio Dovete sapere che La gente Quando viene Quando vengono messi Questi elettrodi Sulla testa delle persone Si parla E si fa Le loro domande Relative Relative a Dio A come reagirebbe Dio Che siano credenti O che non siano credenti Rispondono Esattamente Nella stessa maniera Da un punto di vista Cerebrale Il che significa Che a livello Cerebrale A livello Di strutture Cerebrali Superiori Questa Attinenza A qualcosa Di superiore C'è sia Nelle persone Che credono Che nelle persone Che non credono Io vi lascio Un po' in suspense Perché ci saranno Altri Altri filmati Di questo genere Altri video Vi ringrazio Per l'ascolto Non è un argomento Facile Ma un argomento Estremamente interessante Hashtag Segui la Papa Segui la Papa La Papa Punto com E iscrivetevi Al mio canale Emanuela Papa Non ve lo dico più Perché Anzi ve lo dirò ancora Perché è molto Molto importante Più iscritti siamo E più argomenti Possiamo trattare Vi saluto E un bacione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.